Oggi vi parlerò di qualche altro progettino futuro che faremo nei prossimi episodi E pertanto invito come sempre a lasciare un pollice in su, cerchiamo di superare i 2.909 like per questo episodio Iscrivetevi al canale attivando la campanellina per ricevere tutte le mie notifiche Passate anche in descrizione perché vi sono tutti i link dei miei social Soprattutto il link di Instagram, mi raccomando seguitemi tutti quanti su Instagram E possiamo iniziare subito Ok ragazzi eccoci qui e forse in sottofondo Sentirete il click 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 del nostro smistamento chest Infatti il nostro smistamento chest sta funzionando sempre in modo automatico Vediamo qui ok siamo messi così e così Qua va bene qua va bene pure Dobbiamo vedere un pochettino invece nella zona questa qui Ok va bene spider eye ci siamo Ottimo Iniziamo subito col prendere dei fogliettini di carta Perché ragazzi finalmente ci andremo a rifare di noi i razzettini con flight duration 3 Visto che ormai come state vedendo pian piano il nostro smistamento chest si sta riempiendo di gunpowder Grazie a tutto il sistema che abbiamo fatto negli scorsi episodi Prendiamoci tutti questi stack di gunpowder Così vediamo anche a fine episodio se è aumentata E facciamo ragazzi quindi dei razzetti Vai così proprio ci riempiamo di razzetti Opla finalmente raga Allora adesso prendiamo la sugar box rossa La mettiamo un attimo a terra E mettiamo questi qua dentro Ok possiamo spaccarlo Così appena finiamo questi razzettini ragazzi li andremo a riutilizzare Bene nel frattempo mettiamo di nuovo a smistare la carta e la gunpowder E possiamo finalmente salire sopra Chissà se è notte Secondo me ragazzi è notte E Non lo so Va bene Va bene A questo punto raga andiamo di nuovo a dormire Mi sa che ragazzi nel prossimo episodio Deremo il nome anche al pappagallino forse Perché mi avete dato un sacco di nomi Un sacco di consigli Dovrei un attimo rileggermi i vostri commenti E scegli il nome più adatto alla pappagallina Ovvero alla compagnetta di Jackie Mi avete anche detto una cosa Questo proveremo subito Ma mi sa che non è vero raga Ovvero che i pappagalli Si possono accoppiare Ma mi sa proprio che non è vero Ho preso un attimo ragazzi dei semini E proviamo subito a darglieli Perché ragazzi Non esiste il pappagallo baby Quindi il pappagallo piccolino Quindi presumo che non si possono accoppiare No E infatti raga Non si possono accoppiare assolutamente Voglio un attimo mostrarvi il piccolo cambiamento Che ho fatto La nostra farm di mob Anzi nel sistema di sorting della farm di mob Ecco aspettate No Non mancate raga Mi devo prendere le shulker box Sennò poi le vado a perdere Ecco Ti pareva No dai Ok Secondo questo tunnel Ancora ragazzi Non so cosa fare dentro il tunnel Ho illuminato anche l'ultima lampada Che se non sbaglio era questa qui Che era spenta E scendiamo direttamente qua sotto E ragazzi cosa ho fatto? Ho fatto un piccolo cambiamento Puramente estetico Ovvero Che ho messo il vetro qui In modo che possiamo vedere Direttamente da qui Se c'è il kart O meno In più ho tappato qua i buchi E ragazzi Ormai si scenderà soltanto Da questa parte Vediamo un po' l'ultima che punto è Uh Eh raga C'è uno stack intero Di frecce E E si sta anche riempiendo di gunpow E altre robe raga Secondo me Secondo me in questo episodio ragazzi Beccheremo il kart Che farà avanti e indietro Ora Non so Ho questa cosa qui Voglio beccare però in modo casuale Il kart che va avanti e indietro Perché secondo me è una cosa ovviamente Pazzesca E bellissima Comunque Come avete tutti quanti visto Sabato ragazzi E' uscito l'episodio Della let's go Pixelmon E qua Come avete visto C'è questa bellissima Pokeball Che ho fatto tanti episodi fa Pokeball Che potremo sfruttare sempre Nei prossimi episodi Insieme a qualcun altro Per fare qualcosa di particolare Ma adesso ragazzi Parliamo dei progetti Intanto guardate che bello Il nostro drago da dietro E' bellissimo Mamma mia che figo Allora ragazzi Tutti i progetti futuri Io ho in mente Di fare Intanto Qui la zona giapponese Ma già voi state dicendo Ma c'è la zona giapponese Lo so ragazzi Ma io voglio suddividerla Voglio fare la zona giapponese Antica Ovvero questa qui E la zona giapponese Moderna La zona giapponese moderna Ragazzi L'andremo a fare In questa zona Ovvero In questo punto qui O perlomeno anche per di là Di qua non sarebbe anche male Quindi faremo un piccolo ponticello qua Che ci permette di andare dall'altra parte Anche se comunque È tutto collegato da lì E infatti Oggi ragazzi Faremo una piccola cosa Andremo a levare un attimo Un po' di alberi Quindi partendo anche Già da Questi qui di Betulla Perché faremo poi Una stradina Che porterà All'interno Di un buco Che farò io poi Successivamente Off camera Dove nel prossimo episodio Andremo a fare Una cosa veramente Bellissima Che sarà Diciamo A tema Giappone Più o meno Diciamo che è una tematica Comune Mondiale Però in Giappone Molto più sviluppata Vediamo anche se qualcuno Ci arriva nei commenti E andremo a fare Quindi una struttura Veramente carinissima Che sarà forse Leggermente Addentrata Dentro una montagnetta Quindi penso a questa qui E soprattutto raga Nella zona giapponese Nuova Quindi questa qui moderna Voglio fare anche qualcosa In tema Anime Quindi Raga Preparatevi Che nei prossimi episodi Non so ora Quando Però nei prossimi episodi Faremo qualcosa Per forse in tema anime O un simbolo Di qualche anime O qualche oggetto Sinceramente non lo so Ci devo pensare per bene Però intanto vi dico Che qua Raga Andremo a fare appunto qualcosa Sempre in renta al Giappone Ma non è in tema anime Non c'entra nulla con gli anime Ma un'altra cosa Quindi se non è anime Sono Completate voi la frase Ok perfetto Ho quasi Completato i livelli Tutti i vari alberi Direi che Levando anche questi qui Possono bastare E basta Direi di sì Anzi Ecco Leviamo questo qui Ecco Leviamo invece anche quelli qua sopra Tipo questo qua Lo dobbiamo levare Perché andare sicuramente In intracciare tutto quanto Perché è un progettino in testa Veramente bellissimo L'ingresso L'ingresso di quello che voglio fare Sarà fatto in questo punto qui Quindi ragazzi Qua Poi mi metterò appunto Off camera A scavare tutto quanto Per fare una stanzettina interna Nel prossimo episodio Non ci limiteremo Stanto a fare la stanzettina interna Ma anche una cosa All'esterno Di veramente È bellissimo Come vi ho detto all'inizio Di questo episodio ragazzi Questo qui sarà un episodio Leggermente Di ispezione Per vedere più o meno Tutto il mondo Come sta procedendo Se ci sono problemi Con farm Con qualsiasi altra cosa E ragazzi Voglio controllare Un attimo Questa farm qui Perché come sapete È veramente Buggata In che senso è buggata Non che funziona male Ma che funziona Troppo Bene Raga Quanti cacchio Di stacchi Di ferro ci sono Ragazzi È un problema È un problema Questo qui Perché è troppo strano Come cosa Cioè è una cosa Pazzesca Incredibile E non so Come mai succede Questo Forse ragazzi Una teoria Visto che Ho notato che Questa farm Ha iniziato a farmare Tanto ferro Quando abbiamo stoppato Il mob grinder Cioè da quando iniziava A non funzionare tanto bene Che i mob non cadevano Che non spawnavano Eccetera Quindi non vorrei che Tutti i mob Dovano spawnare là Si sono tramutati Invece Nero un golem Che sono spawnati qui Secondo me è questa L'unica spiegazione Perché non lo so Ragazzi Cioè Boh Ci spawnano Non so se ne spawnano Tanti Pochi Boh Non lo so Sinceramente Cioè a questo punto Ragazzi non so Cosa farci Con tutto sto ferro Veramente Non lo so Cosa farci Non so Non so Consigliatemi Qua sotto Nei commenti Cosa farci E nel prossimo episodio Lo andremo ad utilizzare Ma adesso passiamo invece All'ultima parte Ovvero Una cosa inerente Al nostro Bogunov FMJ Dobbiamo un attimo Andare Nella nostra farm Di mucche Per prendere un poco Di pelle Perché dobbiamo fare Un paio di libri Da enchantare Quindi prendiamo qua Scendiamo subito Qua sotto Hopli E prendiamo Questa pelle qui Mamma che quanta carne Che c'è A posto Risaliamo E possiamo ragazzi Tornare a casa Anzi aspettate Vediamo se Passa il kart No Non c'è Uffa Io volevo Beccare il kart Che passava Vediamo se qua sotto Di nuovo C'è che testo Ormai ragazzi Ho proprio questo pallino In testa Di beccare il kart No è ancora là sotto Ah raga C'è già È andato a casa È appena tornato Perché è quasi vuoto C'è ma Quindi ora Se noi torniamo Un attimo a casa Dobbiamo avere Molta più gunpowder Rispetto a prima C'è non dico Molta tanta di più Però penso È quasi Mezzo stacchio In più Dovremmo averlo E in tutto questo Sono passati Sino quanto 4 minuti 5 minuti Sono troppo curioso Andiamo subito a vedere Raga Quanta gunpowder Abbiamo Qua dentro 16 Solo 16 gunpowder Ho visto Ci sono aumentate le frecce Le string Eccetera eccetera Però vabbè Tanto adesso a noi ragazzi Servono soltanto i libri Già ne abbiamo 3 Ma ne farei un altro pochettino In questo modo possiamo trovare E mischiare I vari enchant Per il nostro futuro Bognow FMJ Anche se mi avete detto Che in realtà noi potremmo Aggiustarlo Nell'envil Ma io ne volevo fare un altro Tipo Bognow FMJ Uno con Mending Ok abbiamo 17 libri Ragazzi E quindi andiamo subito Nella nostra zona Di enchant Anzi la prima cosa Ecco Ormai leghiamoci il dubbio Prendiamo degli stick Ragazzi Opla E facciamo Un arco Nuovo E lo andiamo a mischiare Con questo qui E vediamo cosa Succede Se ce lo fa fare O meno Perché dovete sapere Che ogni tanto Minecraft è un pochettino strano E alcune cose Non te le fa fare Quindi adesso noi Per sicurezza Lo andremo a provare Ma non lo faremo oggi Faremo un episodio apposito Soltanto per il nostro Nuovo arco Ok ragazzi Ce lo fa aggiustare Con 9 livelli Il che Non è male Avrà tutti sempre Gli stessi enchant E tutto quanto Quindi ottimo ragazzi Giusto quindi Nel prossimo episodio Lo andremo a fare Non oggi Ma nel prossimo episodio Lo andremo a fare Adesso l'ultima cosa Che voglio fare appunto È raggruppare I giusti libri Per Per fare Il nuovo arco Che possiamo dare Anche un altro nuovo Succede il boku 9 fmg Perché ricordava molto Il drago No Raga Young No raga Che cos'ha Young È diventato cattivo No Perché No ragazzi Guardate Ci targhetta Ci allontaniamo Ora si gira Dopo un pochettino No ma a parte Stava esplodendo L'avete visto Raga è diventato cattivo No no raga 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 Scoppia Scoppia Non ci siamo raga Non ci siamo Veramente Cioè mi ha Mi ha Mi ha leggermente Destabilizzato questa cosa Non posso neanche Accendere la leva Cioè noi Dovamo entrare là dentro Ragazzi Non posso farlo Perché se lui È messo troppo vicino Scoppia Cioè raga Per poco Per questo è stato Velocissimo A passare per di là No raga Ragazzi A questo punto Io vi dico una cosa Questo episodio Finisce qui Ma spiegatemi Per quale motivo Adesso Ian Creeperino Ce l'ha con noi Quindi ragazzi Questo episodio Finisce qui Spero vi sia piaciuto E si fatemi sapere Con un pollice in su Un commento qua sotto Sono veramente preoccupato Per questo fatto Ian Creeperino Mi ha veramente Ripaltato la giornata Raga Comunque detto questo In descrizione Vi troverò tutti i link Dei miei social Come Instagram E Telegram Mi raccomando Seguimi su entrambi E se ancora non Vi siete iscritti al canale Vi invito ad iscrivervi Volendo per iscrivervi al canale Basta che cliccare Allora Vi sta cuocendo lo schermo E se ce l'avete fatto Potete cliccare a sinistra O a destra Per vedere un altro mio video Noi ragazzi Detto questo Vi saluto E ci vediamo domani Con un nuovo video Ciao a tutti